ben ritrovati continuo il mio tutorial con questa nuova lezione che voglio insegnarvi oggi perché è una cosa che mi è capitata mai mai successe in tutta la mia vita e quindi ho detto ve lo faccio vedere che mi sembra una cosa simpatica da condividere con voi ho notato che dopo aver scangellato il programma che quello che stava qua quello che sta anche qua è dappertutto sto cazzo di programma no guarda no no non vi dico il fastidio per toglierlo definitivamente abbiamo aperto questo questo menu con la della mela il problema è che ho scoperto con mio ramarico che spostando la questa cosa sotto c'è ancora un bastato che e no non va bene allora sono andato a cercare su internet e ma ho visto una cosa molto molto interessante perché queste queste è un bastato e non ne voglio ma avevo detto come come scangello il pallino colorato che io sono una persona molto molto oscura che non ha bisogno del colore e su internet un dizio molto molto gentile con la g si chiama agio giu 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 giulio penso ma ma scritto devi devi scangellarlo completamente facendo questa procedura che vi faccio vedere ed è una cosa definitiva allora si preme il pallino colorato che richiama l'altro pallino colorato è tutto collegato ragazzi se volete scangellare una cosa quadrata dovete cliccare quello quadrato se volete scancellarne una tonda quella tonda rettagonale ottagonale eccetera allora in questo caso voglio cancellare questo quadrato questo quadrato questo quadrato senza senza gli angoli quindi un cerchio e quindi per scancellarlo completamente per toglierlo da questo computer allora schiacciare questo pallino lo schiaccio e hanno detto di scrivere qua dentro dove è scritto cerca programmi e le file no è meglio i programmi perché le file non ci abbiamo tempo di farle quindi bisogna scrivere esegui quale file eseguire come vuole fare questo esegui allora bisogna cancellare tutto quello che c'è dentro e scrivere se mi ricordo bene questo poi questo e poi aggiungere queste 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 stanghette che si sbiasci con un po a destra tutto a destra deve andare perché vedi questo è a destra quindi la cosa a destra se lo mettevi a sinistra dovevi mettere la sbarretta che sbiasci cava a sinistra visto che sta a destra con la sbarretta a destra e poi premere il pulsante che dovrebbe scangellare completamente il nostro cerchetto colorato e diamo l'invio